Grazie mille domande, grazie. Ancora una grande prova alla terzima sinistra, sta diventando un po' il tuo ruolo? Ma penso che oggi ho fatto bene. Al tuo tempo non ho spinto tanto, sono rimasto più in fase di difensione, al suo tempo invece mi sono bloccato, sono cresciuto e ho spinto un po'. Un pareggio che vi lascia un po' di amaro in bocca, secondo te sono due punti persi? Sì, perché può noncire benissimo, non ho qualche occasione, però è andata così. L'azione del rigore? Secondo te era il rigore di te? Guarda, con il pugno l'ho ricevuto. Poi per il resto non ha fischiato, non è andata. Quanto ha influito il silenzio, l'assenza di pubblico sulla partita? Beh molto, anche se si è sentito il pubblico, però la curva fa sempre piacere e dà una spettacione. Grazie. Come mai non siete riusciti a farlo il vostro solito gol? Ma guarda, abbiamo cercato di farlo, loro sono una buonissima squadra, ci hanno chiuso anche nel primo tempo, nel secondo tempo abbiamo chiuso la propria del campo, però non siamo riusciti a far gol. Grazie.